e la sala è strapiena, solo posto in piedi, vinciamo noi, ciao. Ha fatto un torto agli italiani perché li ha privati del diritto di avere l'opposizione in Parlamento, perché ora la bigliettina sarà e diventerà una prassi, la vogliono inserire nel regolamento, la vogliono inserire nella sostituzione e da ora in avanti l'opposizione non potrà più portare avanti quello che è il suo lavoro, quello che è il suo ruolo. Le sale slot, le sale VLT girano un sacco di soldi, noi stiamo parlando di circa 85 miliardi, 90 miliardi e tutto il sistema sanitario nazionale ne costa 110, noi per un anno paghiamo tutta la sanità italiana e gli italiani giocano circa 85 miliardi e io ti dico, ma scusa tu, persona di 50 anni, 60 anni, tuo figlio ce lo manderesti, magari con la prospettiva che ci deve rimanere per tutta la vita a promuovere un posto di lavoro in cui sei pagato, perché mi hai pagato il gioco d'azzardo. E allora ci siamo inventati, io e Matteo, perché contemporaneamente stiamo lavorando sul reddito di cittadinanza, che proprio una quota parte, una quota parte del mondo, in questo momento storico in cui non c'è lavoro, non c'è lavoro, deve andare a reggito di cittadinanza. Il terzo spunto di riflessione è quello anche di valutare appunto la sostanza di quello che fa un vostro rappresentante in Parlamento. Magari a volte non abbiamo una proprietà di linguaggio perfetta, una diszione perfetta, magari non siamo vestiti in giacca e gravata. Perché siete come noi? Siamo cittadini, siamo tutti cittadini ed è così, è vero. Manteniamo sempre quelli, sempre. Il terzo spunto, non siamo entrati parlando di problemi dei cittadini, ancora ci sformiamo nelle nostre assemblee parlando di problemi dei cittadini.